Adriano Nicchi, ex campione di Pugilato, ultimamente sono tanti i ragazzi che vengono qui a imparare Pugilato, ma non tanto per amore nei confronti di questo nobile sport, quanto per autodifesa. Assolutamente sì, non sono io che ho espresso questa cosa, ma sono stati i genitori e i ragazzi in sé che vengono, che si esprimono e automaticamente viene tutto automatico, che iniziano questo percorso, non sono io che ho iniziato. Sono i genitori che hanno bisogno anche di sentirsi sicuri tramite un'attività sportiva che si sentano sicuri i propri figli e i figli che si sentono sicuri per i genitori. Manca molta sicurezza, purtroppo questi social stanno un po' devastando a livello mediatico anche la mentalità dei ragazzi e questo è un problema abbastanza grosso. Si spera che piano piano si tutelino anche da questa cosa e si cerca di dargli una protezione, si cerca di colloquare il più possibile per evitare disastri. Qui i ragazzi vengono anche a mantenersi in forma, non solo a imparare le tecniche di autodifesa. Assolutamente, perché tu quando sei della tua forma, stai bene con te stesso, ami te stesso, ami tutti. E quando stai bene, sei tranquillo e hai la tua sicurezza, a quel punto anche fuori hai già la tua autodifesa, già questa è la tua autodifesa, la sicurezza è di te stesso. Perciò noi si cerca di trasmettergli il più possibile. Qui siamo una famiglia che si gestisce l'attività, siamo proprio una famiglia e per loro quando entrano qui fanno parte della famiglia. Io avevo il padre, la madre e il mio fratello che si gestisce tutto. Siamo sempre qui e per loro sono come figli, per i miei genitori e i ragazzi. Per noi sono come fratelli. Ci fanno anche incavolare, come fratelli giusto sia, però si cerca di fargli capire il più possibile. Perché loro rimangono atleti e rimangono comunque ragazzi dell'attività. Quando sono qui dentro devono rimanere qui dentro ma anche fuori, perché portano il nome nostro e devono portare la disciplina. Perché se no noi ci incavriamo abbastanza.